Mi domando se la Presidente von der Leyen abbia letto l'ultimo report sulla competitività. Immagino di no perché altrimenti avrebbe annunciato le proprie dimissioni invece che annunciare in pompa magna la propria ricandidatura prospettandoci altri cinque anni di fallimenti e di sms riguardanti i contratti miliardari che spariscono nel nulla. Lo dice la Commissione in poche righe del suo report, non un pericoloso sito che diffonde fake news, che il Green Deal ci ha legato mani e piedi alla supply chain delle materie prime critiche cinesi come il Gallio e il Germano, fondamentali per le tecnologie green e anche per gli armamenti. E ora che dalla Cina potrebbe arrivare una stretta sulle esportazioni non sapete più che pesci prendere. Insomma il Green Deal non solo non salverà il pianeta come qualcuno qui dentro pensa, ma distruggerà l'economia europea. La cosa grottesca è che nonostante l'abbiate capito anche voi, siete troppo orgogliosi o forse anche politicamente ottusi per fare marcia indietro. Per fortuna l'8 e il 9 giugno gli europei vi faranno capire con il loro voto che è ora di smetterla di continuare a fare danni. Grazie. Grazie a tutti.